Un corso per contrastare la dipendenza dal fumo delle sigarette, quello organizzato dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Ascoli, presieduta dal dottor Raffaele Trivisionne, già primario di Oncologia all'ospedale Mazzoni di Ascoli, e la dottoressa Elena Movinch, psicologa, psicoterapeuta. La LILT, associazione di volontariato che compie 100 anni, da 100 anni si occupa della prevenzione, della tutela della salute, e purtroppo la salute nell'ambito dell'uso della sigaretta e del fumo è notevolmente minacciata. I fumatori di sigarette ne abbiamo circa 10 milioni in Italia, circa il 20-25% della popolazione fuma, e queste persone hanno una qualità di vita ridotta, con rischi di vario tipo, cardiovascolari, rischio di malattie oncologiche, e ogni anno in Italia purtroppo ci sono almeno 40.000 morti dovute all'uso di sigarette per cause cardiovascolari, almeno 40.000 morti dovute all'uso di sigarette per malattie oncologiche. Quindi è un problema sociale pesantissimo, alle quali bisogna porre rimedio, prima cercando di non cominciare a fumare, quindi educando le giovani generazioni a non fumare, e secondo cercando di smettere di fumare attraverso questi corsi per smettere di fumare, che sono condotti dalla dottoressa Movinkel, che da più di 20 anni con noi, con la LILT, svolge questa attività. Sì, i gruppi ormai vengono fatti da diverso tempo, io collaboro con il dottor Trubison da proprio tanto tempo, è un percorso di gruppo, il gruppo funge da sostegno, rinforzo e accompagna i partecipanti nel riuscire a fare questo tentativo, perché dico che è un tentativo, si può provare, si può arrivare a ridurre, perché il percorso è di orientamento cognitivo comportamentale, che porta a una riduzione graduale di quello che è il fumo di sigaretta, e si può fare questo tentativo, i partecipanti possono chiamare il 345 76 84 494, oppure osservare il sito della LILT www.lilt.it o la pagina Facebook LILT Ascoli Piceno. Il numero verde della LILT è anche molto utile, 800 99 88 77, si possono ottenere informazioni intanto per avvicinarsi a quella che può essere la decisione di provare a smettere. Il gruppo, poi una volta formato almeno da 12 partecipanti, il programma ha un costo di 100-120 euro, poi potrà rincontrarsi a distanza di tempo proprio per rafforzare la decisione a smettere. Il corso verrà tenuto presso la BTS di Ascoli Piceno, bottega del terzo settore.